Molto importante, molto nuova nell'artistico è questa ricerca dell'emozionalità che vale ben mezzo punto, che a mio avviso oggi come oggi ancora nessuna ginnasta ama non perché non siano emozionali, ma semplicemente perché come avevamo detto noi adesso abbiamo visto tre cerchi, tutte e tre hanno fatto degli errori che nell'emozionalità è logico che sono come un inciampo, come un balbettio in un discorso quindi ti spezza un po' l'emozionalità, però per ora le giudici alle ginnaste di alto livello questo mezzo punto di emozionalità lo stanno riconoscendo però insisto, anche le giudici come le ginnaste devono entrare in confidenza col cosice Allora, l'amiteva l'avete vista, un 26,650 e anche lei si è migliorato non quanto la canaeva e soprattutto due punti in meno Anche perché ha avuto quella piccola perdita del cerchio 26,4 era in qualifica, due decimi e mezzo in più Adesso un atleta che ad Atene arrivò in finale, Pudecci, ma stiamo parlando quindi di un po' di anni fa è stata una gran bella atleta, questa 22N di Minsk, Bielorussia Sittlana Rebellum Sittlana Rebellum Sittlana Rebellum Sittlana Rebellum